Tutta colpa delle zucchine. L'inflazione sale più del previsto e rischia di triplicare il carrello della spesa. Più 1% su base anno a più 0,3% su base mensile, il massimo da tre anni e mezzo, il doppio rispetto a dicembre, dice l'Istat. Ad infiammare i prezzi, quotazioni del petrolio e maltempo che hanno spinto in alto il costo dei carburanti, della frutta e della verdura, che insieme ai beni per la casa e la cura della persona, in un mese sono addirittura triplicati. Tanto che le associazioni per i consumatori parlano già di stangata per le famiglie. A questo ritmo fare la spesa potrà costare anche 3-400 euro in più. Preoccupate anche Confcommercio e Confesercenti. La ripresa è ancora fragile, dicono. Simili aumenti dei prezzi possono erodire il potere d'acquisto. Preoccupazione aggravata dall'andamento dei prezzi in Europa. La media si attesta tra l'1 e l'8%, dunque molto vicino all'obiettivo che la BCE intendeva raggiungere con il quantità di vising. Se la tendenza si consolidasse, Francoforte potrebbe portare a conclusione anticipata il piano d'acquisto da 60 miliardi. A quel punto i tassi di interesse sul debito tornerebbero a crescere e questo ai nostri conti pubblici farebbe molto male.